Ciao bimbi! Eccoci qua con un nuovo gioco. Visto che l'altra volta Pagliaccio Jimmy si è divertito tanto ed è stato anche bravo ad aiutarci, l'ho rinvitato. Ciao Pagliaccio Jimmy! Eccomi qua! Ciao bambini! Come state? Tu come stai? Bene? Sì, benissimo! Meno male! Ciao Pagliaccio Jimmy, allora oggi facciamo il gioco delle sequenze. Bello! Sai cosa sono le sequenze? Più o meno! Allora come fai a dire bello? Basta che si gioca! Giusto hai ragione! Dobbiamo dire quale di queste immagini avvengono prima, durante e dopo. Tipo una storiella! Bravissimo, tipo una storiella! Grazie! Ad esempio io inserisco queste qua. Ma c'è una bici? C'è una bici, sì. Wow! Allora, vediamo un po'. Qui c'è un bimbo con una bici. Lo vedi Pagliaccio Jimmy? Si vede benissimo! Qui c'è un bimbo che... È volato! È volato! Qui c'è un bimbo che viene curato dalla mamma. Brava mamma! Qui ho un bimbo a terra, un bimbo che piange, poverino, e un bimbo sulla bici. Allora dobbiamo dire, dobbiamo metterli in ordine di tempo. Bene, proviamo! Quindi secondo te qual è la prima immagine? Quello che sale sulla bici. Bravissimo, questa qui. Ah! La vedete da qui? Ok. Ah, quindi prima sale sulla bici. Poi... E poi incomincia a pedalare. Questa qui, bravissimo. Quindi poi vai un po' in bici. Oh! Cosa succede adesso? Che è successo? No! Tragedia! Cosa succede? Adesso... Ha preso la pietra con la bici. Poverino! Eccolo! È inciampato su una pietra. Mannaggia, che pietra maledetta! E adesso cosa succede? Che è caduto? Eh sì, è per terra. Mannaggia! Speriamo non sia fatto male. Speriamo. Eh, mi sa che un po' si è fatto male, sai? No! Vado a consolarlo io! No! Tragedia! Quindi, quale viene prima? Quella in cui piange o quella in cui la mamma lo cura? Prima piange! E poi la mamma lo cura! Guarda, Prima! Bravissima la mamma! Si è fatto bibbia al ginocchio! No! Mettiamogli un cerotto! E infatti arriva subito la mamma che gli cura il ginocchietto! Yeah! Super mamma! Sì, super mamma! Hai visto? Infatti anche lui è un po' più tranquillo, non piange più! Meno male! Bravo, bravo! Allora, sai... Dimmi tutto! Questo era un esempio! Però gli altri non li possiamo fare noi! Sennò i bimbi poi cosa fanno a casa con i genitori? No, no! Quindi poi noi nei commenti vi metteremo le altre immagini! Mi raccomando! Mettetelle in ordine! Giusto! Come sono stato bravo io! Come sei stato bravo tu! Già, giusto! Perché Katia non è capace! Pagliaccio Jimmy! Ciao! Non ho detto niente! Non ho detto niente! Ma poi ci vieni a trovare in altri giochi? Sì! Però se ti comporti bene... Ma io sono bravo! Non so! Non è capace! Vabbè! Cosa hai detto? Che sei bellissimo! Pagliaccio Jimmy! Ciao! Ci vediamo domani con un altro gioco, eh bimbi! Mi raccomando! Metteteli in ordine! Ciao bimbi! Ciao ciao!